Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, troviamo coda per traffico tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Roma, per regolare il traffico altrove. Segnaliamo che sta piovendo sull'intero tracciato della Firenze-Pisalivorno, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Sempre in Fipirì, possibili disagi per lavori all'altezza del turbone tra Montelupo e Ginestra nelle due direzioni. Ricordiamo che contestualmente all'emergenza sanitaria sono fortemente rimodulati i servizi ferroviari e il trasporto pubblico locale su tutta la Toscana. Otterrò i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, in via Cimabue sono in corso lavori per la realizzazione di un'isola ecologica interrata. Il tratto da Via Gioberti a Via Giotto sarà chiuso fino al 26 di giugno. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!